Grazie a tutti. Sì, certo. Allora, quando si decide di tenere la barba un po' più lunga, la pelle va aiutata e non bisogna fare l'errore di non lavare il viso oppure di lasciarlo così al suo destino. Sì, tanto ho la barba. E poi nessuno mi vede. Assolutamente no, perché la barba lunga può impedire alle cellule superficiali di ricambiarsi, quindi di cadere e lasciare il posto a quelle più giovani, quelle più nuove. Quindi si insapona la barba. La barba sì, con dei detergenti delicati, adesso ci sono dei detergenti ad hoc per chi ha la barba, sono estremamente delicati, devono fare poca schiuma anche. E la barba va poi asciugata con un phon o con un asciugamano delicato, perché l'umidità potrebbe danneggiare la cute. Ho visto che ci sono anche dei balsami per barba, sono indicati per tutti o solo per barbe un po' scapigliate? Quando i peli della barba sono un pochino più spessi o quando le squame delle cellule corne tendono a non essere ben compatte, quindi la barba diventa ispida oppure troppo secca. Professore Di Pietro, ci sono delle pelli che dovrebbero evitare di far crescere la barba? Penso ad esempio a chi ha sofferto di acne e ha magari ancora delle cicatrici, penso a chi soffre di dermatite o di un problema, di problemi cutanei. Dunque no, questo no, non ci sono particolari problemi cutanei o controindicazioni per far crescere la barba. Anzi, a volte, in chi tende ad avere l'acne, quindi con facilità delle follicoliti, infiammazioni, far crescere la barba può anche mettere un po' a riposo una pelle che viene continuamente microtraumatizzata, stimolata con la rasatura. Quindi in questi casi potrebbe addirittura essere utile. Verrebbe quindi da farsi crescere la barba, ma anche chi si sbarba e i suoi vantaggi, professore. Certo, perché abbiamo visto che la pelle maschile, a parità di età, invecchia più lentamente rispetto a quella femminile. Quindi, non so, due cinquantenni, maschio o femmina, in genere il maschio ha una pelle che sembra un po' più giovane rispetto. Soprattutto se quel maschio cinquantenne si è rasato tutte le mattine facendosi la barba. Questo perché, passandola alla metta e quindi radendosi la barba, si portano via delle cellule superficiali morte e si favorisce il ricambio dell'epidermide. E quindi la formazione di cellule più superficiali, giovani, ben compatte, che rendono questa pelle un po' più tonica, diciamo, più fresca. Per cui, radendosi tutte le mattine è un peeling, peeling molto soft, molto delicato, che aiuta il ricambio cellulare e quindi la pelle resta un po' più giovane. Non si può dare questo suggerimento alle ragazze, perché sarebbe un po' imbarazzante. Perché donna barbuta, sempre piaciuta, però poi alla fine rimane lì. Ma le donne hanno già di loro bellezza, che caratteristica. Professor Di Pietro, grazie.